Ma c'è un posto un po' più a Londra, no? Ma questo è il cimitero. Ma pure un attimo, Paola. Sì, sì, va bene. Ma no, si vede la torretta soltanto, è tutta nascosta. Nascosta dai pini, dai cipressi. Qui c'è il cimitero. Questo è il cimitero. Mi chiedo come mai in questo momento sono qui. Qual è senso per me di stare qui di nuovo? E io sono colpita dalla bellezza e dalla felicità che mi ha dato questo posto. Io non riesco in questo momento… Sì, io vi faccio una domanda, ma non ho risposta. Però sento che non è un caso che oggi, in questo momento, tramite amici, io sono qua. e prendo contatto con qualcosa di importante. E' importante per me, oggi. E ho un desiderio di prendere contatto, di vedere la casa, di… Io ho di salutarla, di venire qui, salutarla ma venire con tutto il mondo che sa. Vengo qui e so che venendo qui, anche altri, anche soprattutto i tedeschi e i fascisti, sappiano di quello che è successo, che non sia avvenuto così, di nascosto, come se fosse una cosa normale. No, non è stata una cosa normale.